È impossibile che sia femminista, semplicemente perché non ti puoi riconoscere in nessuna associazione, in nessun intellettuale femminista, in nessun libro, in nessun niente, cos'è che ti fa definire femminista? Di fatto tu critichi più che il femminismo, critichi la comunicazione femminista, soprattutto social, degli ultimi anni? O mi sbaglio? No, no, io critico il femminismo. Ok, ok, allora ti lascio parlare, spiegami. Non è soltanto, cioè è troppo comodo ed è storicamente inesatto parlare solo di, cioè per questa deriva qua, mettiamola così, parlare solo del femminismo odierno. In realtà la gran parte delle teoriche del femminismo, anche della prima ondata, scrivono cose aberranti sugli uomini. Cioè in realtà il concetto di parità, per come oggi lo intenderemmo modernamente, dove quindi ci sono veramente gli stessi, la stessa possibilità identica di ruolo, eccetera, eccetera, non era un concetto così diffuso nel femminismo. Cioè le suffragette erano femministe, tanto per le suffragette erano quelle delle piume bianche, che se non andavi in guerra ti umiliavano pubblicamente perché non eri un vero uomo. Cioè, quindi intanto c'è proprio una, secondo me, questo argomento è diventato troppo popolare. Come tutti gli argomenti che diventano popolari, viene raccontato a cazzo di cane. E quindi la gente pensa di saperlo, e in realtà ne sa una versione minuscola, cioè proprio una porzione minima, un rassunto minimo. Questa cosa di associare femminismo a combattere i ruoli di genere non è vera, è sbagliata. Associare il femminismo a combattere i ruoli di genere per le donne e per alcune cose. Perché non è che il femminismo ha mai combattuto affinché fossero anche le donne da andare a morire in guerra, non ha mai combattuto affinché una donna intera mantenesse la famiglia, non ha mai combattuto per nulla di quello che riguardava gli uomini, non era quello l'obiettivo. Ma questo in sé non è che sia una pecca, nel senso che un movimento che nasce per le donne va anche molto bene che si occupi soltanto delle donne. C'era un bisogno, d'altronde, particolare, in quanto questo movimento è nato, di riportare in alto le donne da molti punti di vista che erano più in basso. E poi, quindi va bene. Il problema del femminismo di adesso, intanto ce ne sono molti, diciamo che adesso vi parlerò di questo. Quello che secondo me c'entra in questo caso è che non è che semplicemente si limitano a scrivere le loro cose contro gli uomini o comunque ipotizzando anche società senza gli uomini, insomma tutte le riflessioni che vogliono fare, ma affermano di volere una società che sia migliore per tutti, affermano di combattere anche per gli uomini perché il patriarcato, questo mostro mefitico, fa male anche a loro. E quindi la cosa che a me dà fastidio è l'ipocrisia, cioè il fatto di prendermi in giro, il fatto di cercare di non inimicarsi nessuno se non le persone cattive, cioè quelli che sono esplicitamente sessistiche, chi è che non chiamerebbe cattivi ovviamente, e allo stesso tempo farsi amici tutti gli altri, anche gli uomini. Perché noi non neghiamo che voi abbiate problemi, noi vi stiamo aiutando anzi, e invece no, perché poi attivamente quello che il femminismo fa con femminismo, mi riferisco a realtà concrete femministe che operano sul territorio, o che sono essenzialmente anche a livello editoriale o comunque giornalistico, si mettono proprio a contrastare tutte le iniziative a favore degli uomini. Cioè, e qua posso accennare il secondo problema, poi magari non do risposte troppo lunghe, così non... Vai, vai, dilungati che a noi fa piacere. Noi dilunghiamo, dilunghiamo. Cioè, mi ricollegheria il secondo problema, il fatto che il femminismo adesso non è neanche un ideale, non è un movimento, non è semplicemente un qualcosa che si può monetizzare, è qualcosa che viene monetizzato costantemente, è sostanzialmente una moda, che si è riversata su tutto quello che abbiamo attorno, tutto quello che può essere acquistato in sostanza tramite moneta, quindi praticamente tutto, perché ormai è così, ha a che fare in tutti questi ambiti, il femminismo si è riversato, cioè ce l'hai ovunque. Quindi non ha nemmeno la scusa, come dire, della purezza, eventualmente di una causa nella quale si crede profondamente e che quindi porta anche a contraddizioni, perché non è neanche quello. Molte persone, diciamo le persone normali, che aderiscono, che so, un ragazzo, immagino una ragazza o un ragazzo di 18 anni, che vogliono impegnarsi nella società, vedono delle ingiustizie, si dichiarano femministi, ok. Ma quello a cui prendono parte senza rendersene conto, andando a comprare il libro della tizia, ascoltando il podcast di quell'altra, il TED Talk di quella, e tutto il giretto che c'è attorno, e comprando la borsa che poi fa capo, cioè c'è tutta un'enorme rete di cose che si vendono, che non soltanto si vendono e quindi, vabbè, c'è qualcuno che ci fa i soldi, che possiamo anche dire non ci disturba la cosa. Il problema è che queste cose che vendono influenzano le persone, influenzano il modo di pensare delle persone e la cultura. Influenzano quindi quello che viene insegnato a scuola, influenzano quello che passa in televisione, nelle pubblicità, cioè, ok, crea una cosa molto pervasiva. Magari sembra che si stia esagerando, che sia descrivendo una situazione di propaganda costante, assoluta. Ovviamente non è così, perché siamo comunque un paese democratico, anche se a qualcuno piace ogni tanto dei riri di totalitarismi e cose varie, siamo un paese democratico, quindi comunque la pluralità di opinioni ce l'abbiamo, è garantita. Però è innegabile che se tu oggi apri, qualsiasi giorno, tu apri un qualsiasi giornale italiano di quelli più grossi, di quelli più letti, è sicuro al 100% che ci sarà qualcosa che riguarda le donne, sicuro che sia la cazzata dello sconto che la discoteca fa, che sia la ragazza che è stata ammazzata e di cui viene divulgato ogni cosa possibile e immaginabile, che sia quella lì che ha denunciato il tizio per stalking e non è stata ascoltata, cioè qualsiasi cosa, tutto focalizzato sulle donne, ogni giorno le troverai sempre, è costantemente una cosa incredibile, e soprattutto, la cosa che più ovviamente mi fa schifo, è che le cose che vengono raccontate non sono neanche vere, cioè nel senso le storie che ci raccontano vengono fatte passare come, per esempio mi riferisco ai femminicidi, ok, noi abbiamo, ci viene detto che c'era un certo numero, solitamente questo numero viene gonfiato, ok, no, perché vengono conteggiati tutte le donne che sono state uccise da un uomo senza considerare le ragioni, se consideriamo le ragioni il numero dovrebbe essere diverso, ma a prescindere da quanto scato... Oppure tutte quelle uccise da familiare o partner, ma senza considerare le ragioni, che poi è comunque complicato, ci sono diverse versioni, il numero totale cambia spesso, sono d'accordo, ringrazio Stefano. Scusate, ero un po' troppo a... No, dicevi che non si fa, c'è una sorta di propaganda permanente, che parla sempre delle persone femminili. quando ci viene dato questo numero, il modo in cui ci viene presentato il numero, già molto spesso è di per sé fuorviante, perché vengono usati o espressioni, perifrasi che tendono a farlo sembrare gonfiato, quindi uno ogni tre giorni, piuttosto che dire il numero, che in realtà è irrisorio, per esempio, oppure l'ennesima vittima, tutta questa comunicazione qua, fa credere alle persone che questo fenomeno sia costante, cioè che tu, tu donna X su 30 milioni, quanto cazzo siamo, rischi costantemente la vita, cioè, ve lo immaginate? È un allarmismo costante, totalmente scisso dalla portata numerica, non c'è dubbio. Esatto, quindi completamente, a parte che sarebbe sbagliato lo stai, anche se fosse vero, perché non è in questo modo che devi rendere le persone consapevoli, cioè non è con l'allarme, che ovviamente porta al panico e quindi azioni idiote, ma in questo caso appunto non ci sono, non c'è neanche il tanto, non ci sono i numeri per farlo, ma la gente questo non lo sa ed è, io vi assicuro, da persona che ormai fa informazioni su questo da molto tempo, perché lo faccio da ben prima di Coscienza del Genere, da ben prima del mio canale anche, è difficilissimo spiegare alle persone questa cosa, perché loro sono circondate costantemente, cioè se tu ti senti dire tutto il tempo che siamo una società patriarcale, che pone gli uomini al vertice, le donne sono state sottomesse sempre, tuttora lo sono, cioè tu sei bombardato da questa roba qua, e il punto non è tanto che la senti spesso o non la senti spesso, perché uno potrebbe dirmi, beh puoi sentire spesso anche le cose che dice Giorgia Meloni o comunque di quella fazione là, che sono altrettanto grave, oppure anche molto di più, quindi certi racconti della realtà molto mistificati, in base a quello che si vuole far passare sugli evo sessuali, o sulle persone transessuali, eccetera, eccetera. Sì, però qual è il problema? Che se tu appartieni, come dire, una certa intanto fascia d'età adesso, cioè alla generazione Z, o come adesso si chiamano, quelli più piccoli, insomma, nati e giovani, esatto, quelli sotto i 30, diciamo, e che in generale, insomma, o se appartieni alla media borghesia, un minimo colta, quindi comunque una parte abbastanza grossa degli utenti dei social network, e quindi anche dei cittadini, queste cose, queste del una donna uccisa ogni tre giorni, eccetera, eccetera, sono considerate le cose che vanno dette, cioè sono le cose giuste, non è soltanto che le senti sempre, le senti sempre da parte di chi si pone come lo sceriffo, che tutela i cittadini dal male, eccetera, laddove invece gli altri, quelli che non dicono una donna uccisa ogni tre giorni, quelli che non divulgano le stronzate, insomma, le intercettazioni, e ci fanno i soldi sopra, quelli sono i cattivi, perché negano in qualche modo l'importanza del fenomeno, io mi sono sempre sentita dire che lo sminuisco, che io sputo sulle donne uccise, perché? Ti posso dire una cosa divertente, Soffri, il direttore del Post, disse in un tweet che mi colpì particolarmente, che coloro che negavano che quello dei femminicidi fosse un'emergenza nazionale erano i nuovi terrapiattisti e non valeva neanche la pena parlare con loro. Eh? I nuovi terrapiattisti. Questo è un argomento difficile, però c'è un tizio che mi ha fatto notare, un tizio, scusa, un utente che mi ha fatto notare che non ho risposto, o comunque, cioè, forse non ho risposto accuratamente, perché rispondere ho risposto, sul fatto del femminismo, come ho detto, non è che c'è il femminismo di prima, il femminismo di oggi, semplicemente si evolvono, ma la matrice è la stessa identica, non è mai stato vero che il femminismo, insomma, voleva i diritti di tutti e quindi io l'avrei avversato uguale, cioè non è che mica sarebbe cambiato molto, quindi intanto questo. E poi, cosa vuol dire femminismo di oggi? Cioè, oggi siamo, non è che viviamo nell'ottocento, quindi se io dico femminismo, se io dico io sono antifeminista, osteggio il femminismo, evidentemente sarà il femminismo di adesso, evidentemente, non può essere altrimenti, è la favoletta del vero femminismo, cioè no, ma quello che è, a cui sei contraria tu è solo il femminismo social, è solo il femminismo pop, dov'è l'altro femminismo? Perché io sto ancora aspettando e di appelli ne ho fatto e di visualizzazione ne hanno avuto, non ci credo che una sola associazione femminista non ci sia stata che, se veramente ci sono i veri femministi che non sono misandrici, che per esempio è venuta a darci sostegno pubblicamente sul fatto dei centri antiviolenza per uomini. Già tre volte ho fatto stapello, ho fatto stapello, le prime due io, e l'altra volta su Coscienza del Genere, per dire. Quindi, ho risposto, penso, poi ovviamente uno può benissimo non concordare, capisco che ci sono tante persone che ci tengono, perché secondo me è una questione di affezione, a definirsi femministe, anche se in realtà non lo sono, perché se, o almeno, se una persona ha la stessa mentalità mia per quanto riguarda i sessi, i generi e tutto questo mondo, è impossibile che sia femminista, semplicemente perché non ti puoi riconoscere in nessuna associazione, in nessun intellettuale femminista, in nessun libro, in nessun niente, cos'è che ti fa definire femminista? E quindi te lo chiedo anche, visto che anzi ve lo chiedo. Certo, certo, certo. Quindi non esiste un femminismo che non sia misandrico e non esiste un femminismo illuminista. Questo ti voglio domandare. Allora, questo diciamo che se io rispondessi, cioè potrebbe essere un po' trabocchetto, non che tu l'abbia fatto con questo intento, certo che potenzialmente esiste, nel senso che uno mi potrà sempre portare l'esempio di un'associazione inculata, non so dove, in Nuova Zelanda, che è così. Certo che ce ne sono, ne conosco tante di persone singole che appunto, come voi, si definiscono femministe, ma non parlano in quel modo, non ragionano in quel modo, ma chiaramente io parlo degli esponenti del movimento. Cioè, ma vale così per tutto. Cioè, io ora infatti dico, quando mi definisco di sinistra, ma, cioè, lo dico, che non sono più sicura di definirmi così, se la sinistra adesso è questo. Cioè, a un certo punto, sei tu che prendi le distanze, non è che il movimento che prima o poi si adeguerà a te, che la pensi diversamente. No, il movimento è questo. Quindi, se vuoi farne parte, crea una realtà che sia attiva e che sia un esponente forza. Mi dica anche che, voglio dire, ci sono tante persone che la pensano come te, allora sì, ma altrimenti no. Mi sembra logico, ecco. Sì, sì, non fa assolutamente una piega, devo dire che, personalmente mi hai convinto. Io, cioè, io ho, secondo me, hai risposto, nel senso che ho capito perché tu non lo faccia. E visto che hai chiesto perché voi vi definite femministi, io brevemente rispondo, ma il mio criterio è un po' particolare. Ovviamente, ma questo so che vale anche, cioè, immagino valga anche per te, non penso che la definizione di appartenenza a un movimento mi esaurisca, quindi io, un poco spesso, premetto i movimenti a cui penso di appartenere nel descrivermi, ecco. Se qualcuno però mi fa la domanda diretta, generalmente il mio, il criterio che ho sempre usato è a chi do fastidio se rispondo una cosa o un'altra. E quindi, in realtà, io, vabbè, da piccino piccino mi definivo femminista perché era la cosa giusta da fare e vabbè, e mia mamma mi ha cresciuto così. Poi c'è stato un periodo in cui sono arrivate le prime divulgazioni, mi ricordo il libro di Glenda Mancini, Uomo vittima di una donna carnefice di dieci anni fa, perlomeno che ho viste io le prime divulgazioni sull'antisessismo anche MRA e allora lì per un po' ho voluto avere un po' la polemica e dire mi definisco antisessista perché all'interno del mio gruppo classe semplicemente era visto come scioccante e ho detto no, ma c'è anche questa cosa qui. Adesso le mie cerchie sono tornate un po' di più molto MRA forse anche non red pill per carità ma ho visto un aumento della red pill non poi magari amici miei però è più facile che mi ritrovi in contesti in cui e poi io sono un uomo e quindi spezza un po' di più dire femminista probabilmente forse dico una cosa sessista non lo so probabilmente se io fossi donna mi definirei antifemminista pure io onestamente perché spezzerebbe di più l'aspettativa e mi dà modo poi di spiegare però vabbè comunque ho capito assolutamente il tuo discorso cioè non vuoi associarti con la stragrande maggioranza del femminismo che fa rumore adesso direi no? per chi non ha seguito tutto è un riassunto parziale che perlomeno è parziale questa è la cosa che mi ha conto posso rispondere ah dell'adesso scusami no no hai ragione hai ragione è veramente una cosa che ritengo tanto cioè che le persone chiariscano che cosa che cosa intendo qualcuno aspettate devo tornare un po' indietro mi ha chiesto se insomma ritengo che tutti gli esponenti dei movimenti del movimento femminista quindi diciamo quelli noti di cui parlavo prima sono allineati con questo pensiero io quello che ho visto è questo cioè ho cercato ma l'ho fatto veramente tante volte cioè ogni volta che c'è stata che abbiamo chiesto alle associazioni femministe di prendere posizione contro certe cose e non abbiamo mai ricevuto risposte io sono andata attivamente a cercare nelle pagine ma veramente cioè associazioni femministe non soltanto tra l'altro perché ormai ne conosco tante non soltanto nazionali ma anche locali non ho mai trovato niente sinceramente quindi non so cosa dirvi ho trovato soltanto singole persone singole persone tantissime ma anche perché voglio dire è anche difficile che qualcuno ti venga proprio a dire apertamente no no sì per me è vero gli uomini fanno schifo sono tutti stuprati cioè ora esistono anche le persone esaurite nel mondo purtroppo qualcuno ha anche un canale instagram però diciamo che tendenzialmente no quindi insomma secondo me quello che cioè il problema è che se tu se tu ti definisci femminista oggi lasciamo perdere poi origini non origini ma se tu oggi ti definisci femminista come fai poi cioè io voglio proprio vedere chi è la che l'iscritta non una di meno che va dalla rappresentante sul territorio che cazzo è insomma membro del comitato a dirgli no guarda la vostra retorica misandrica mi fa schifo perché il femminismo non dovrebbe essere questo eccetera nessuno perché altrimenti non ci fai un cazzo lì dentro non ci sarebbe andato direttamente tutto il tempo che parlano così cioè voglio dire quindi dove sono questi movimenti è quello che io dico se ci fossero questi esponenti o non farebbero parte di quei movimenti o se no ne sentiremmo parlare cioè io sono d'accordo non la pensano così e non lo dicono e sono peggio l'unica l'unica cosa che mi sento di dire in relazione a quello che dicevo prima Eugenio è non non descrivo me stesso sulla base dei movimenti a cui aderisco per cui uno dice io sono un femminista come dico io però capisco la tua obiezione non c'è nessun femminismo che rappresenta il femminismo che dici tu se non così in singoli individui che non l'hanno formalizzato probabilmente neanche quindi secondo me è un discorso assolutamente sensato sicuramente nei commenti arriverà il singolo esempio della singola associazione che lo dice però comunque se mi date nomi concreti di gente con cui collaborare è molto volentieri non è che ti voglio ti voglio chiedere una cosa a proposito di un concetto che mi affascina di cui non sono molto colto e che so che tu invece te ne intendi moltissimo il concetto è intersezionalità io tutte le volte che ne ho sentito parlare ho avuto veramente la sensazione di di staccarmi dal terreno e di volare volevo sapere che cosa che cosa ne pensi e insomma come lo descriveresti qual è la tua opinione a riguardo io non è che abbia tutte queste cioè allora ho delle difficoltà io con questi argomenti perché con tutta la buona volontà che ci posso mettere posso parlare liberamente qua mi sembra di capire se è un luogo puoi andare a ruota libera libera i limiti sono quelli di youtube per il resto puoi dire quello che vuoi ok ecco io ogni volta che tento di leggere riflessioni su questi concetti mi sembra delle cazzate cioè proprio delle seghe mentali quindi ho proprio difficoltà a carpirli come dire cioè io magari leggo anche un testo che mi spiega cos'è l'intersezionalità me ne resta come contenuto lo stesso che ti rimane delle supercazzole di cioè di amici miei che che mi sembra mi sembra di amici di amici che mi sembra di amici di amici di amici Grazie a tutti.